Gli italiani si sono rincoglioniti, non hanno capito che dietro ai politici ci sono degli impostori. Da un lato abbiamo Berlusconi che si fa i cazzi suoi, circuendo il proprio elettorato utilizzando l'enorme potere mediatico acquisito grazie alle concessioni televisive, mentre dall'altro lato abbiamo la sinistra che è rappresentata da politici che sono l'emanazione del potere finanziario. Paradossalmente gli operai e la povera gente votano dei faccendieri e ferati senza scrupoli, che hanno come unico compito di spolpare l'Italia, ridurre in miseria il ceto medio, sono degli impostori con il compito di rubare alla gente per dare ai ricchi. Il governo è presieduto da degli impostori, letta e membro della commissione trilaterale, una cricca privata con il compito di soggiogare gli stati, nel 2012 ha partecipato alla riunione del gruppo Bilderberg i cui scopi sono quelli di egemonizzare l'economia per arricchire i potenti, togliendo sovranità agli stati. Il ministro della finanza Saccumanni è un banchiere spregiudicato, un esattore con il preciso compito di saccheggiare gli italiani. Grazie a degli allocchi che con il loro voto sostengono questi impostori, la classe media verrà saccheggiata dalla finanza, e il divario tra i ricchi e il cedo medio diverrà abissale. Preparatevi a divenire schiavi di questi impostori. Diviana, la sicurezza di ciò che è familiare, la tranquillità della ripetizione. Porca vacca!